Una casentinese è stata scelta come unica artista contemporanea europea per un nuovo museo indiano. Si tratta di Sara Lovari. Sono stata parte integrante di questo progetto grazie a un contatto avuto dal responsabile del design del museo, che è Elsie Nanji, e ho lavorato in team per circa due anni, insieme anche all'architetto del museo, Arch Monroe. Il museo è stato inaugurato da pochi giorni, però a suo appuntamento, perché in India è stagione dei monzoni, e da settembre sarà ufficialmente aperto al pubblico. È un museo interattivo molto particolare, che racchiude opere di tanti artisti, del quale io sono l'unica europea. Gli altri artisti sono per lo più indiani, o comunque indiani che risiedono all'estero. La scelta è stata fatta per il modo in cui racconto le cose. Infatti hanno scelto quattro opere, che sono quattro assemblage, che hanno le quattro tematiche, tra cui etica e l'inizio, quindi The Beginnings, il fatto di essere eroi anche all'interno di una comunità, quindi un'opera dedicata a un loro dipendente che ha perso la vita cercando di salvare vite in mare, e quello che è poi l'etica e il concetto dell'azienda stessa.